Ciao ragazzi siamo tornati qui in un nuovo video e vi volevo portare di nuovo Brawl Stars e vi volevo chiedere, mettiamelo nei commenti, quale gioco che vi porti sul mio canale intanto si sta aprendo Brawl Stars aspettiamo che si apre, si è aperto andiamo a vedere cosa c'è una cassa gratuita ad aprirla, se troviamo un brawler vi chiedo per questo video 7 like 9 monete, Jesse, 4 punti energia e 5 di shell peccato però c'è un raddoppio a 600 oggettoni che io ora me lo vado a scioppare ok e poi andiamo in partita allora stiamo andando in partita abbiamo invitato David che come ben sapete tutti anche lui è un canale youtube andato da seguire si chiama super david è un buon youtuber e credo che si stia facendo anche lui il video e allora noi ci andiamo a fare un paio di partitini ci siamo appena scioppati quindi il raddoppio a 600 oggettoni come ben sapete direi che inizia subito inizia subito vediamo che si è pronto allora ragazzi abbiamo fatto una partita solo che siamo arrivati terzi abbiamo fatto 0 trofei e allora lui se n'è andato dopo comunque noi adesso ci andiamo a fare un paio di partita non ho visto il video di ieri ho un gran mal di gola non è colpa mia ma sono stato non ho visto Sì Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.